Ma bentornati su WhatsApp Economy e oggi dobbiamo parlare innanzitutto di questo baffo. Questo baffo l'ho portato all'esame orale della maturità ed è un baffo per occasioni importanti, proprio come questa, perché anche qui giù ci sono delle novità e ne parliamo. Dovete sapere innanzitutto che WhatsApp Economy fino ad adesso è stato un test, un esperimento. Nel mondo delle start-up si chiamerebbe MVP, Minimal Viable Product, esperimento che dura ormai da due anni e io sono molto affezionato a queste immagini per descrivere questi anni. Per me queste immagini hanno molti significati, ma oggi ne vorrei prendere solo due. Il primo significato è cambiamento. In questi due anni sono cambiato sia come persona ma anche come divulgatore. Ovviamente spero in meglio, anche se le basi da cui sono iniziato erano veramente scarse e quindi era difficile fare di peggio. Però spero che un minimo di progresso si sia notato. Il secondo significato è impegno. Non c'è dubbio, mi sono impegnato a fare ogni singolo video, ma non è questo il punto. Il punto è che WhatsApp Economy in questi anni non è stato il mio primo impegno. Quelli che mi seguono da più tempo lo sanno, ma ci sono stati mesi in cui non pubblicavo assolutamente nulla. E infatti nell'arco di due anni ho pubblicato solo una cinquantina di video con le live tappabuki comprese. Questo perché non era la mia occupazione principale fare WhatsApp Economy, era semplicemente un hobby. Nel frattempo ho lavorato, ho studiato, ho portato avanti dei progetti personali e quando mancava del tempo per WhatsApp Economy purtroppo dovevo rinunciarci. Ma ho specificato che fino ad adesso è stato un hobby, perché sto riuscendo a liberarmi di alcuni impegni e sono in una fase della vita in cui un percorso classico richiederebbe l'invio di curriculum con la speranza che qualche azienda mi assuma. Beh, in realtà... In realtà io voglio darmi una possibilità e voglio rendere WhatsApp Economy qualcosa di più serio, di professionale. E qui arriviamo alle novità. Sono convinto che l'economia possa essere divulgata in maniera molto migliore rispetto a quanto abbia fatto io fino ad adesso. Mi sono sempre posto un certo obiettivo nei modi in cui divulgare l'economia. Alcune volte mi sono avvicinato, altre volte no. Però mi sono reso conto che da solo non ce la farò mai a raggiungere veramente questo obiettivo, sempre se è possibile raggiungerlo, perché sono abbastanza ambizioso. Ed è per questa la prima novità. Sotto, nella fotoprofilo, non troverete più me, ma un logo. Un logo nel quale ho la speranza che in futuro possa rappresentare un team di divulgatori ed esperti nel mondo della comunicazione, in modo che diano il giusto merito a questa scienza che io amo e che possa essere divulgata nella maniera più corretta al pubblico. Un team per domare l'economia, un team per trovarla, un team per ghermirla e nel buio incatenarla. No? Facceva così. Con un team non solo riuscirei ad alzare la qualità dei contenuti prodotti, ma anche a produrne di più. Ci sono un sacco di persone che mi hanno chiesto fare questo video, fare quell'altro video, continua la serie sulla questione miridionale, continua quell'altra serie. Il punto è che non solo non ho abbastanza tempo per fare tutti quei video che vorrei fare, ma anche perché ci sono alcune serie come la questione miridionale o il debito pubblico, la storia del debito pubblico, che reputo molto importanti e che secondo me meritano una certa qualità, che adesso non posso offrire. Inoltre avrei un sacco di idee e progetti da portare avanti grazie a Whatsapp Economy. Ad esempio ci darei molto a iniziare a fare un giro delle scuole, visto che lo Stato non fa educazione finanziaria, qualcuno lo dovrà pur fare in questo paese che ha il tasso di educazione finanziaria più basso d'Europa. Però se io inizio a girare per le scuole o magari intraprendere un progetto parallelo a Whatsapp Economy, i video scarseggerebbero e per questo il team è fondamentale per la prosecuzione di questo progetto. Quindi un team, abbiamo detto, un team fatto di professionisti e i professionisti devono essere pagati e qui arriviamo alla seconda novità di oggi e cioè la sezione abbonamenti. Ho aperto la sezione abbonamenti non per sostenere me ma per sostenere il progetto che ha quell' obiettivo lì e cioè la costruzione di un team di persone serie e voi potete contribuire in questo. Il costo degli abbonamenti è di 1 euro e 99 al mese, un costo credo molto accessibile a tutti e può essere pagato anche grazie ai crediti di Google che possono essere ottenuti grazie a Google Rewards. Quindi adesso una domanda legittima sarebbe cosa ottengo in cambio di questo abbonamento? Beh, ho ideato qualcosa di molto interessante e speciale e cioè delle live settimanali dal lunedì al giovedì della durata di un'ora. Cosa si fanno in queste live? Nulla di molto pesante altrimenti mi ucciderei anch'io, però ho pensato che si potrebbe sfruttare questo tempo in vario modo. Ad esempio aprendo le porte della mia libreria e leggendo dei libri e scoprendo magari che fin dagli anni 90 il mondo economico italiano si domandava della sostenibilità del sistema pensionistico. Oppure ancora andare nel dettaglio di alcuni comunicati stampa della Banca Centrale Europea, del governo eccetera eccetera e scoprire insieme alcuni appunti particolari o magari scoprire insieme come funzionano determinati meccanismi più in dettaglio. Anche fare delle semplici chiacchiere perché no? Perché ripeto fare quattro live a settimana parlando di economia è un po' pesante quindi magari ci saranno anche delle live a chiacchiera o ancora potremo vedere dei video insieme e fare del sano debunking e ogni tanto ci sta. Con queste live alcune volte vi accompagnerò nei meandri dell'economia altre volte invece potremo imparare insieme perché ovviamente non so tutto di tutto e quindi alcune volte potremo imparare insieme cose nuove. In più c'è anche il badge abbonamento che certifica che state supportando questo canale e inoltre ho iniziato a collaborare con alcuni artisti che hanno creato degli emoji speciali ad esempio lui ve lo presento è Joseph Schumpeter quindi l'idea è quella di creare degli emoji con gli economisti più famosi che sono mai esistiti e che potrete usare durante le live. Per fare queste live ho fatto anche un investimento infatti potremo avere delle live con la stessa qualità audio e video dei video normali quindi senza la webcam che mi fa tutto uno schifo quindi anche qui professionalità. So che è una cifra un po' alta da raggiungere però vi prometto che appena arrivo a mille abbonati inizierò le mie ricerche a cercare la prima persona che potrà collaborare in questo progetto. Ma ovviamente non è tutto questo è solo un primo passo ci saranno tante altre cose che vi mostrerò in futuro sto lavorando anche un sito internet ma non solo il vostro supporto è preziosissimo ma non basta quindi da ora in poi inizierete a inizierete a vedere anche delle collaborazioni con alcune aziende. Ovviamente non mi menderò alla prima azienda che passa anche perché sono state molte aziende che mi hanno già proposto di collaborare e ho già rifiutato però creerò dei contenuti sempre che vi diano un certo valore anche se supportati da alcune aziende su questo potete stare tranquilli. Ah e comunque ci tengo a specificare che il progetto di divulgazione gratuita non si interrompe anzi magari usciranno ancora più contenuti visto che ho un più tempo da spendere e anche il prezzo dell'abbonamento ho voluto ritenerlo così basso in modo da renderlo il più accessibile a tutti. Le live inizieranno da lunedì 27 ho deciso di darmi una settimana di tempo perché ancora devo sistemare alcune cosine per creare delle live di qualità ma anche per dare il tempo a tutti di abbonarsi e quindi accedere fin dall'inizio a tutti i contenuti in maniera regolare. Ah e inoltre ci saranno comunque delle live aperte a tutti. Devo ancora vedere quando farle ma credo che faremo anche delle live molto più cadenzate e programmate di prima aperte a tutti senza pagare e disponibili anche dopo la registrazione aperte a tutti. Ah ultimo appunto non mandatemi email con il vostro CV o non mandatemi email chiedendomi di poter collaborare in questo progetto. Al momento non sto cercando nessuno quando inizierò a cercare ve lo farò sapere. Sto cercando persone in gamba e se voi mi mandate email in questo momento quando non sto cercando vuol dire che non siete in gamba e quindi non siete delle persone che sto cercando ok? Quindi se mi mandate delle email le cancello e mi segno anche il nome così nel caso in futuro dovrò cercare delle persone non sarete voi ok? Questo spero che sia abbastanza chiaro. Lo so è un po drastico ma bisogna essere chiari in queste in queste cose. E niente io spero di essere stato abbastanza chiaro spero che queste novità vi piaceranno. Sono spaventato a merda perché mi sto dando una possibilità e sto dando un'opportunità a questo canale a diventare qualcosa di serio e fondamentalmente non so come andrà potrò fallire miseramente come avere del successo. Sono in baglia delle onde farò del mio meglio e spero che voi mi darete una mano in questo senso. Ciao! Ciao!